2000, 2000, 2000 iscritti, salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis e ragazzi è passato un anno da questo video, va bene? era Napoli-Atalanta 2 a 2 ne è passata di strada, ne abbiamo fatta veramente tanta tutti insieme come già detto abbiamo superato i 2000 iscritti, abbiamo superato anche i 2050 siamo a 2070 iscritti ragazzi miei vi ringrazio, vi ringrazio veramente tanto appena un anno fa feci uscire questo video parlavo proprio di Napoli-Atalanta era uno sfogo, era successo quello che era successo rigore su Llorente non dato, poi il gol dell'Atalanta e da lì in poi ho deciso da quella sera di fare un video al giorno anzi un video a settimana ogni volta che giocava il Napoli non vi ho mai lasciate solo, anche quando facevo 50-20 visualizzazioni ho sempre continuato il mio percorso perché lo sapevo che prima o poi sarebbe successo il mio obiettivo ad inizio anno era di raggiungere i 2000 iscritti e me l'ero prefissato per la fine dell'anno ho detto entro il 2021 vorrei arrivare ai 2000 iscritti ragazzi sono passati 6 mesi e abbiamo già raggiunto e superato i 2000 iscritti io vi ringrazio perché soprattutto grazie a voi che questo canale è migliorato con il tempo all'inizio registravo con un iPhone l'XS Max, ora non mi ricordo come si chiama e poi sono passato a prendere un Samsung Galaxy S21 Plus e da lì si è vista anche la qualità video, audio e tutto è migliorato veramente in tutto all'inizio facevo i video in macchina tenendo il telefono in mano ora invece ho anche quando registro in macchina ho delle apparecchiature per registrare in macchina così tengo tutte e due le mani sul volante come potete vedere la location con l'andare avanti del tempo è migliorata sono migliorate anche le illuminazioni ho due barre per fare luce nemmeno una, due addirittura ho comprato uno stand da 60 euro giusto per far vedere la qualità video e audio che è migliorata in quest'anno il prossimo obiettivo quale sarà? il prossimo obiettivo a questo punto io mi auguro di raggiungere i 2500 iscritti entro la fine dell'anno a questo punto poi ragazzi se superiamo anche i 2500 iscritti a quel punto il traguardo sarà quello dei 3000 iscritti andiamo avanti step by step 500 iscritti alla volta non voglio strafare vi porterò un video al giorno lo sapete sul Napoli quando posso il sabato e la domenica giustamente c'è la famiglia a casa, c'è mia moglie a casa e stiamo insieme quindi per ora la domenica fino a che non giocherai il Napoli naturalmente uscirà un video al giorno tranne il sabato e la domenica ora stiamo a vedere e poi per il futuro del canale vorrei portare la carriera allenatore sulla perché sappiamo che ora sulla carriera allenatore si può creare lo stadio quindi occhio, lo stadio, la sua divisa e quindi arriverà la carriera Neapolis 1926 Football Team sarà una cosa allucinante io credo e spero per voi che la vediate io vi ringrazio veramente ancora tanto ed è, lo ripeto, soprattutto grazie a voi che io, Antonio, Neapolis 1926 posso dire di aver raggiunto i 2000 iscritti grazie, sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926